ben tornati ragazzi sul canale di storm player benvenuti a tutti oggi challenge su fort night un'ora di tempo dobbiamo fare insieme al nostro team insieme a peppe shark e joe allegro almeno una vittoria in più 30 kill di squadra quindi tutti belli carichi andiamo subito dai nostri amici li andiamo a salutare bentornati amici perché non rispondete mi ero mutato apposta che quando mi sentivate mi dovete salutare comunque bentornati ben tornati comunque joe allegro e peppe shark allora spiegato velocemente un'ora di tempo abbiamo un'ora di gioco effettivo quindi appena finiamo una partita oppure moriamo io il timer lo blocco una win almeno ripetiamo è 30 kill di squadra possiamo fare pronto partiamo tranquilli che i pezzi vuoti li taglio poi io sono un editor video andate tranquillo peppe svegliissimo questa non la taglio 3 2 1 parte il timer parte il timer ragazzi pronti pronti ho messo 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 ricordatemi di bloccarlo vabbè non lo ricordo io andrei subito ragazzi qua dobbiamo andare a montolimpo ragazzi che bellissimo che qua se prendiamo tipo le forze di zeus diventiamo fortissimi prima ho vinto le cozze di zeus le cozze di zeus poi il monte olimpo se abbassiamo zeus qui ci danno un bel le belle forze ci danno poi potenzialmente mi fa strano vedere l'uno di nuovo vicino al mio numero sento gente e raga a qui l'olimpo si è sceso qualcuno da me eccolo dove o ma che è cambiata l'assenza fatto uno ragazzi una mano ho fatto l'ho fatto raga però sono a terra sono a terra qua uno porco cane maledetto che ha fatto eh sì ma sta a terra venite ve l'ho completato e mi ha alzato sento player però eh sento passi ma mi vuole interessare porco si mette avanti con la stronzona andiamo abbiamo già 3 kg ragazzi dobbiamo andare a vincere soltanto adesso missione importante vincere sento passi qua vicino arriviamo arriviamo occhio che mi sto bendando occhio però potevate aspettare occhio Peppe c'è la gente qua l'aveva buttato al culo il la oh sento uno da me raga porco cane maledetto fatto 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 morti tutti questo team è morto coccane ora dobbiamo andare da zeus raga andiamo a ammazzare zeus vieni volevo volare con le ali i c bell poi voli poi voli sembra un picciolo è bellissimo volare con i piccioni volanti allora zeus forse è il più forte di tutti eh quindi che è zeus aia ma c'è una player raga mi sa sono tre arriva zeus aiuto salgo sopra raga salgo sopra coccane maledetto di dios la merda che raggianta il tuo amore mmm bloccato il timer bloccato il timer allora quante kill abbiamo fatto allora raga ricordate 6 kill ve le segnate da qualche parte allora 6 kill prima prima partita si parte con il timer via 56 minuti e mezzo ragazzi allora raga vi ho fatto vedere olimpo però adesso io direi di andare a qualche posto andiamo a cupo cancello e andiamo e dai cambiamo posto vediamo cupo cancello dopo che di che iniziamo a fare i seri quindi se lì c'era zeus qui ci dovrebbero essere ate no qui c'è il lupo mannaio qui pure qui è incasinato pure tipo è notte qua eh io scendo sempre su posti più alti magari via via ragazzi dai 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 scatenati scatenati bene non c'è un'arma benissimo ma nell'acqua si muore se cade no 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 ho fermato uno ok c'è qualcuno bene di pronto ho visto davvero la sense è diversa raga la sense è più più lenta oh no a me sembra più veloce invece più veloce si andiamo a fare la prova di cupo cancello anche vogliamo provare si si questo è un po' più facile all'inizio escono dei lupi e poi esce il mostro i lupi muoiono abbastanza facilmente il pollo il pollo tacci tuo questo se l'ha menato occhio non state quando esce il mostrone non state troppo vicino che si mina è arrivato non state troppo vicino non state troppo vicino che si mina forte questo ho cercato di starli lontano hai visto che fa? vabbè che è quasi morto c'è il pompa e il lupo il lupo col pompa morto guarda che sciacalli io me lo prendo io questo questo è fucile d'assalto minchia uuuuh 52 minuti raga almeno un obiettivo lo dobbiamo beccarla eh se li becchiamo tutti e due è meglio ancora non vogliamo mettere pressione con calma con calma tu che bella questa arma raga con una bomba di nuovo mamma mia c'è un'arma con un'ottica tipo con con l'ottica come cazzo dice notturna ah pure io finalmente hanno rimesso il minino a terra si bella sulla si si uccide d'assalto tempra di guerra i DMR hanno rimesso i DMR hanno rimesso si si era uno sento altri passi da me occhio arriviamo uuuuh l'arma di cerbero 150 di danno fa porca che arma ma l'ha lasciata lui fammi capire quello di cerbero ah ho capito che si è tosto quella è tosto l'altra gente quello che abbiamo ucciso prima e due le ho fatti uno nel regas ok con l'ottica notturna non lo vedo ecco l'ho visto tipo qua due sono hanno le armi della uno vola due volano cazzo bravo l'ho visto l'altro è tipo giallegro uuuuh fatto era l'altro c'è nel terzo oh è un altro ah c'è il scuso è il cerco occhio l'ho visto è Goku quasi morto non lo vedo eccolo non mi carica l'arma dove sei il Goku che cazzo è andato l'ho visto l'ho visto l'acqua è andata ma va a cagare vabbè scappa e scappa e scappa e scappa avete preso? quasi ho incastrato il mio player eccolo e andiamo l'arma di Adela ragazzi andiamo ci abbiamo 7 e 8 ragazzi 8 ci abbiamo 8 kill non sale non sale no 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 8-1 8-1 u eccolo no 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 c'è giusto quando devo ricaricare ma porco diavolo ok partito partito il timer vai ok andiamo qua andiamo a spallo dopo dovrebbe essere qua uno è sceso qua giù con calma con calma ah sei tu Giole che ne so resta resta una frenatura morti 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 mai 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 resta una frenatura che cazzo sto facendo le ali qua Giole le ali della felicità che ne so che ne so che ne so voi non da non date call non fate niente venite allora andiamoci nella questa zona per favore venite che dobbiamo cercare di vincerla intanto alle kill probabilmente ci arrivià andiamo nelle nostre zone venite venite sto per bannare qualcuno mi dite come si fa a bloccare un giocatore per favore dai raga ora la vinciamo eh abbiamo rotto il ghiaccio adesso la vinciamo vinciamo questa challenge per i nostri ascoltatori Nemo dai io voglio un urlo da voi un urlo un urlo di Nemo allora raga muoviamoci con la safe cerchiamo di fare la win oltre le kill che non ci interessa intanto siamo partiti con poche kill questa la cerchiamo di vincerla fate uscire tutte le vostre potenzialità spari in zona si ok qua sono abbastanza lontani ancora quindi abbiamo tempo per andare e così gira questo oh da dove qualcuno mi ha sparato non so da dove da tre qualcuno mi sta sparando con non so cosa eccolo la sopra eccolo la sopra dove l'ho visto l'ho visto onda mia ho dentro i colpi sento di grandi ragazzi così mamma mia che botta in testa è questa c'è uno qua eh dove ho visto son pronto con un'onda energetica Sparate raga Sì Oh cacchio era un team Oh no raga no no Aspetta aspetta Giole Ho visto l'ho visto Terra uno Ho visto Oh no è un bot è quello Mi fa Sì E vai Zeus Mi riesci a prendere Aspetta che stanno gli altri Mamma mia Zeus Guarda se sta qualcuno Mentre state a terra Mac Tyson Mac Tyson Andiamo 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 Meno 22 persone Una in strada Due in strada Occhio Occhio che sei Non ti avvicinare troppo Ho visto Una a terra sì Arriva una macchina pure Oh L'altro team Aspetta che c'è qualcun'altro Terrato Aiuto Morti tutti Morti tutti No All'asta uno Dove 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 sta volando Basta che sta lontano Basta che sta lontano Che mi devo ricaricare Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Che te lo fai Lo faccio io Lo faccio io Lo faccio io Sto scappando Sì Grandi Grandissimi Così Così Oh mia che abbiamo combinato Ma piglio io quello Lascio quello verde Specchio Eroe Ti do il benvenuto Continuo Sto ancora scrutando Nel tuo destino Torna più tardi Ah Fangù Facciamo sto crossetto qua Andiamo qui Sul monte Sul monte Eccoli E dai Fai non andare giù Terra 1 Terra 1 A sinistra Dai 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 Che sono morti Sì Un altro Arriva da dietro Un altro Certo là in fondo Un altro team Sì Da qua arriva uno Arrivando l'altro Sì sì da qua giù Da qua giù Occhio occhio Cecco 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 Se lo buscate Quello sta pensando a me Sono due 110 Cecco Sono tre Sono tre Oh Arriva uno Mi sta buscando Uno raga Oh Quella al volo L'ho quasi fatto giù No no L'ha dietro L'ha dietro Ho visto Merda Sta tutti qua No 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 È troppo Troppo in mezzo Lì stavamo Due team Oh ma Oh 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 Questo è per colpa di certi Pirloni Che entrano Mi rifiuto A parte il timer 29 minuti circa Dicevamo Le 30 kill Le abbiamo fatte Siamo a 32 puntiamo alla vittoria perché potrebbe essere l'ultima partita ce la metteremo tutta ci proviamo eh ragazzi proviamo a battere questa challenge in come vincita non c'è un cazzo ora siamo più motivati oh Poseidone hai preso dobbiamo terminare con successo tutte le missioni della challenge me lo sento me lo sento addosso perché spara? perché? 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 va bene ci manca la vittoria nostro nuovo amico Pisi Posona eccolo qua guardate che quanto è bello l'arma viola l'arma viola che sciacallo ci l'ha preso eh mo prendi pure la scheda se hai il coraggio si ti lascio pure l'arma ahia si l'altra volta la mappa sono arrivato pure mi si posone se mi era volato ragazzi uscite uscite se mi sentite per favore stiamo facendo un torneo che sta qui meno 36 non dobbiamo stare in posti troppo open saliamo di fronte qua torna più te vabbè non è che portare sfighe qualcosa ci fa perdere quando lo tocchiamo allora vi dico ufficialmente che questa è l'ultima partita per vincere per cercare di vincere ora aumentate la tensione no non fate gli ansiù ecco bene scammone eh c'ho un'arma che si può vincere dove è l'altro vedilo questo vedi la mo te la scammo pure questa te lo giuro non ho fatto in tempo è morto subito sono qua lingotti che ho ucciso io stiamo entrando in un altro cerchio raga pronti impegnati non romper i co***i aspetta che forse ho visto gente si mi sa di si qua la dentro no si si due due almeno due che nuotano possiamo andarli di fronte andarli macchina macchina oh donna mia da dietro da dietro da dietro merda dov'è? dov'è pe? non lo so ho visto sul ponte no no non ci pieto non ci pieto non ci pieterò mai una terra un'altra terra raga un altro un altro ne manca dov'è dov'è? 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 sul monte ce li hai pure ok un ultimo cioè tu stai in mezzo a due fuori lo so lo so porco cane maledetto di merda siete morti tutti e due? si mi sta cercando di finire qua sta uno si pingalo si in grande uno eh qua sta si qua dove sto io ok ok aspetta calma mortacci miei che culo le schede qua stanno cadute me ne vado? non so dove lo sentite lo sentite sto scappando non so dove raga devo cercare di restarvi dove? 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 cazzo stanno sparando da questa zona speriamo che stanno lontane ci siete? ci siete? sto restando? forse stanno lontane dai resta ti prego resta ok mamma mia questa è un'azione da manuale questa è come una vittoria questa è come una vittoria oh 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 dove? l'ho visto? fullmonte l'ho visto? l'ho visto fullmonte? è morto 290 ah oh 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 l'ho visto? si mamma mia tutti a casa tutti a casa tutti a casa mamma mia che cazzo sta succedendo raga? che cazzo sta succedendo? che cazzo sta succedendo? impegnatevi! io manco c'ho il blu però non c'ho mai un cazzo io lascio lascio questi se li volete quelli piccolini raga è in safe veloce namo come lucone devo fare mi arrabbio se non venite con me no no uscite uscite raga uscite dalla dalla lobby per favore che cosa? che sta dicendo? ci siete raga? ci siete? tanto un po' di vento da quelle parti nord ovest no ci stanno sparando stanno sparando? raga obiettivo ricordatevi qual è? e che cazzo? dove stai? ma che sta vento da quelle parti? dove stai? sento sento un ragazzino inglese non so non so non so se è inglese qualche lingua come si dice esci in cristoforo colombese? è vero è vero mi sto troppo concentrando please exit bro no no non devi andare peppe non devi andare aspetta saliamo da qui se li dobbiamo fightare li dobbiamo beccare belli easy stai andando in bocca a qualcuno tu giolè sicuro no no sto tornando indietro la safe la vediamo se riusciamo a prendere questa questo coso ci mettiamo bene il cavo qua no no non è vero non è da qua non è vero perché stavo salendo stavo girando gli occhi penso che fosse da lì la si meno 10 eh dobbiamo salire non pensiamo ad altro dobbiamo pensare ad arrivare in safe qua sopra la neve come cazzo ho fatto prima a non morire sotto al ponte raga come cazzo ho fatto questa me la dovete dedicare questa me la dovete dedicare siamo in safe siamo nella prossima safe pure quindi mi raccomando sparano qua giù dove là c'è gente qua con l'uccello ah qua è che l'ho visto l'ho visto con l'uccello due con gli uccelli due con gli uccelli da voi stanno venendo da me snatch arrivo occhio eh qua uno giù è caduto quasi uno è morto è morto è morto è morto quasi dove sta dove sta siiii siiii ragazzi siiii siiii la portiamo abbiamo perso ma quanti cazzo mi hanno avanzato alla fine non si capiva ma dai la portiamo a casa questa challenge ragazzi siamo fortissimi non è bene comunque l'abbiamo portata a casa nell'ultimo game nell'ultimo game la portiamo a casa mamma mia con altre 9 kill eh quindi ne abbiamo fatte 41 con 41 kill ragazzi la portiamo a casa mamma mia e ce ne hanno avanzati anche 8 minuti no non avevo capito niente alla fine e stavano mischiati gli ultimi due film ma dai ma dai così non ho visto manco quante kill ho fatta alla fine tu 5 io 4 si tutta la fine l'abbiamo fatta ragazzi bravissimi ragazzi bravissimi abbiamo fatto una bella bella cosa abbiamo fatto abbiamo fatto veramente una bella challenge un bel video uscirà un bel video ve lo giuro beh ragazzi io chiudo velocemente mi raccomando like e commento anche voi ragazzi anche tu Peppe e anche tu Giulio mi raccomando subito 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 appena c'è il video subito il like noi noi prepariamo la prossima challenge perché questa è andata a buon fine io non ci speravo onestamente non ci credevo io l'ho buttata lì però cazzo siamo riusciti ci becchiamo al prossimo video ragazzi mi raccomando let's go let's go let's go un po' un po' Grazie a tutti.